se mi è aggiuta lì per questa, per quella eh ma guarda questa giura, non si prendere dai 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 non la prendi, non la prendi 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 facci la pecorina, facci la pecorina hai fatto male Marco? va bene, va bene, non faccio niente Marco guarda qua l'altro che c'è? stai nella vasca, porta testa sui posto testa sui posto non stai giù dalla mostra, stai in moto alla pecorina ti sei messo testa, testa poi lui cosa fa? lui cosa fa? arriva in cima arriva in cima, accelera con la percettina da voi insieme guarda quella va a morire guarda la radio schifo a te tutti i radici e trovi il mio porco controvi ele attacchino è muovo, ti è la gente d'un之elto attacchino è muovo, te vuoi attacchino è mutato che è questa attacchino è buona うん